ma e di altri uccidimo 2 e poi rotto davanti filippo rotto davanti filippo se senza davanti si attacca e va su un po' 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 e li gira di là e li gira la rotata avanti sono sinistri no ma il blocco un li andava il blocco un li andava no li andava, si è smontato là un li entrava, ha piegato la forcella è blocco rotto e lo schianto il sceglie è finito di troncar la forcella dentro perché si è smontato là un li entrava età la salita di là l'ha fatta senza blocco Grazie